Ci siamo eh, signori miei, ci siamo per davvero, si va veloce e spediti verso Inter-Roma, la gara che si preannuncia già incredibile perché poi due squadre in forma, spettacolo, già di per sé Inter-Roma ha sempre regalato tanti gol, quindi già questo mi rende veramente euforico. Ma prima di parlare del video di giornata, delle parole di Antonio Conte, anche di alcune notizie legate alla Roma, fatemi dire, visto che siamo sotto le feste, già ormai è Natale, cioè una volta le pubblicità iniziavano in procinto del Natale, adesso iniziano a Novembre, però vabbè, questo a voi non vi interessa, ma alla fine neanche a me. E visto che siamo sotto le feste, se volete fare un regalo, fate un regalo al vostro amico, al vostro figlioccio, al vostro padre, non so, i figli, cambiate, i figli che fanno i regali dei genitori, perché no? Vabbè, non tiriamo la perle lunghe, comunque, c'è il codice sconto, Neschio, andate da New Completti Calcio Outlet, in descrizione, no, vedevo perché i nomi io non ricordo mai, in descrizione vi metto il link, pagina Instagram, andate lì, mi manda Neschio, prendete maglie, articoli, qualsiasi cosa sportiva, 10% di sconto, andate in descrizione, mi raccomando, ok? Ok? Va bene, quindi fate il regalino, diventate più buoni sotto le feste, anche con me, magari con qualche commento al miele, con qualche like, con qualche iscrizione, basta, basta, già avete fatto troppo. Ok, adesso parliamo di Conte, prima però passiamo da Fonseca, Fonseca mi interessa l'informazione che ci ha dato, che ci ha fornito, Dzeko ci sarà, qualcuno diceva, no, ma volevano farci credere che Dzeko fosse influenzato, che Dzeko non ci fosse, tutta l'altra, qual è tattica? Dzeko ha saltato due allenamenti, non credo che un allenatore faccia saltare due allenamenti al proprio giocatore, così, per fungere da tattico, boh, magari sono quelle tattiche moderne, poi non lo so, però mi sembra una cosa paradossale, fuori dal normale, fuori da ogni logico, ok, ok. Quindi, Dzeko ci sarà, non sappiamo se partire da titolare o meno, fatto sta che per due giorni non si è allenato, quindi non sarà magari al meglio, e da alcuni punti di vista sono contento, perché Dzeko, Dzeko veramente è un giocatore importantissimo per la Roma, ma allo stesso tempo io voglio vedere spettacolo in campo, quindi mi auro anche che ci sia, ma che non ci faccia male, ma che non ci faccia male. Detto questo, passiamo ad Antonio Conte, parole che finalmente tolgono, non dico dei dubbi, ma che finalmente mi danno forza, mi danno forza per portare avanti un discorso che io promuovo da inizio stagione sul Nainggolan, ok, siamo d'accordo? Ma prima di arrivare a questo, fatemi dire che, come al solito se l'è cavata alla grande, le solite domande sull'autara, rompere le scarpe, o prendono di mira un giocatore che sta facendo bene, è sempre la domanda, ma ti aspettavi che fosse forte, ma ti aspettavi questo, ma ti aspettavi quello, o di, e lui se ne esce alla grandissima dicendo, ma io non mi voglio focalizzare sui singoli, perché è giusto, perché bisogna parlare di gruppo, inizi a parlare di singoli, inizi ad esaltare, 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 non vai da nessuna parte, c'è nulla da esaltare, concentrazione alta e via. Complimenti a Fonseca, tanti ne sono appunto piovuti se vogliamo, perché li merita tutti, è un allenatore che comunque veniva da un'esperienza estera, arriva qua e già dimostra di saperci fare, di dare un certo equilibrio alla Roma, quindi giusto anche rimarcare i complimenti per quanto riguarda l'allenatore romanista, e poi cosa c'è da dire? C'è emergenza centro capo, appunto, perciò, si è parlato anche nel finale proprio di conferenza, e vi invito ad andare ad ascoltare quelle parole, si è parlato un po' di Nainggolan, perché Nainggolan in settimana aveva dichiarato, se sto facendo bene anche merito di Conte, per la preparazione che mi ha fornito all'inizio appunto stagione, per cui c'è del merito, attribuisce dei meriti a Conte. Come ha risposto Conte? Conte sicuramente è molto, molto anche felice di questo, ha detto, ma non avevo dubbi del fatto che Nainggolan potesse far bene al Cagliari, è un giocatore poi che sia ben chiaro che io l'ho sempre voluto, lo volevo, era in cima alla lista quando allenavo il Chelsea, però è giusto che sia al Cagliari, e poi bisogna, chiude, bisogna farsi, deve farsi delle domande se è al Cagliari, deve porsi delle domande se è a Cagliari e non è all'Inter, perfetto, perfetto, è quello che io, questa è una palla che raccolgo al volo, e che cerco di mandarla dentro in porta in rovesciata, perché? Perché? Perché questo è quello che cerco di comunicare ai tifosi da un po' di tempo, che cercano sempre di vedere il lato scuro delle cose, oh, adesso che c'è questa emergenza, tutti a rompere le scala, tutti, odio, una fetta, rompere le scala, oh, ma perché Nainggolan, perché Nainggolan, poi dovevamo tenercelo, guarda sempre come al solito, non capiamo nulla, oh, 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 sempre all'Amenta, se Nainggolan è al Cagliari, non è all'Inter, un motivo c'è, un motivo ci sarà, e fa bene Conte dirlo, fa bene, fa bene, le qualità di Nainggolan non le scopriamo adesso che sta a Cagliari, che sia ben chiaro, perché qualcuno magari se le era dimenticate le qualità di, no, che Nainggolan fosse un giocatore forte, che fosse un centrocampista completo, perfetto, ma io sono sicuro, e non è un'addizione matematica, che se Nainggolan fosse rimasta all'Inter giocasse poi con questa continuità, con questa qualità, non è una, cioè non è matematica che fai l'addizione uno più uno fa due, non funziona così nel calcio, nel calcio conta innanzitutto il gruppo, se fosse rimasto Nainggolan e indubbiamente avesse continuato ad agire come gli va in testa a lui, sono sicuro che oltre a non avere Nainggolan con un rendimento simile, ci saremmo ritrovati altri giocatori più scarichi mentalmente, perché se c'è una forza, se c'è una forza in questa Inter è che tutti danno l'anima, tutti, ma quando dico che tutti danno l'anima, sto dicendo che danno il massimo, non è che danno il 40, 45, 60, 70, 80, 80, 80, 92, 90, no, non esiste neanche il 99%, qua esiste solo il 100%, solo il 100%, è questa la differenza dell'Inter che sta nascendo, che stiamo assistendo, a cui stiamo assistendo, è questo, che tutti danno l'anima, perché si fanno forza l'un con l'altro, perché se tu vedi il tuo compagno di squadra dare il massimo, tu cerchi di dare il massimo, cerchi di adattarti, se vedi che i giocatori iniziano, che ne so, quello non si allena, quello non ha voglia, poi calano tutti, calano tutti, calano tutti le orecchie, è questa mentalità, ecco perché sta bene dove sta Nainggolan, la sua occasione l'ha avuta, Nainggolan l'ha avuta, e non dimentichiamoci cosa ha fatto vedere all'Inter, o c'è ancora chi ha il coraggio di dire che ci ha portato in Champions con un gol finale, quando in realtà abbiamo visto la stagione di Nainggolan, va bene, credeteci pure, però ragazzi miei, in Nainggolan che noi ci auguravamo, è quello che stiamo vedendo a Cagliari, ed è quello che abbiamo visto a Roma, non è stato così, pazienza, bisogna guardare avanti, e sono felice che Conte, che Conte poi abbia messo i puntini sulle i, perché finché lo dico io, finché lo dico io, finché lo dice Neschio, eh ma se c'è a Cagliari un motivo, lascia il tempo che trova, se lo dice Conte, forse i tifosi finalmente iniziano un po' a pensarci, ah ma forse è bene che sia andata così, forse, speriamo un po' che si rifletta, che si rifletta, io voglio vedere gente che danno l'anima, l'anima, ok, ok, va bene ragazzoli, finalmente, e con questa saccagnata di Conte a Nainggolan, che io giro ai tifosi, concludiamo l'appuntamento odierno, diciamo così, vabbè, dai, su, si scherza, si gioca, si entra in clima Inter-Roma, forse Inter, amala sempre e comunque, che sia una grandissima partita, che sia spettacolo, e che queste due squadre ci facciano vedere, ci facciano ancora di più innamorare del calcio, anche se non ce n'è bisogno, perché siamo già innamorati alla folia, un grande abbraccio da Neschio, fatemi sapere cosa ne pensate, di tutto ciò commentate sotto, in descrizione, passate per fare il regalino, no? Trovate il negozio, passate solo, fate il regalino, un grande abbraccio, da Neschio, ciao, un abbraccio!